eeeh bella a tutti ragazzi e ragazze qui è Trajector e bentornati sul mio canale siamo ritornati con Metal Gear Story del 5 del 5 del 5 del 5 perché mi non cava e fatemi sapere se vi piace mi sentono col tutto bellissimo fatto lavoro con un bel like e adesso dobbiamo andare a farla insieme e intanto il prossimo falco di giro allora si fa tutto eeeh... e via e c'è tra ok ragazzi stiamo ok ho portato il cane perchè è il mio... la mia spalla potuta scusate ragazzi eeehm scusate che altri video come questi eeehm costruiti di otto cazzaroni fatemelo so bene intanto diamo il bacio della buonocchia qui sta la buonocchia PAM per questo mi chiamano Trajector linea di traiettoria eeehm eeehm scusate che farò ancora razzeggare ma scrivete anche nei commenti come ve lo faccio passavolo eeehm questi scendenti sono veramente molto buoni ok eeeh buonanotte anzi non ho mancato mi chiamano Trajector adesso mi sembra di averlo preso aspettiamo 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 guardiamogli un altro per poter sicurezza perchè ecco ecco a tutti in pochi secondi l'accuso devo correre giusto al... al giusto al giusto al giusto allora alla casa scusate ma come è stato andiamo lì diciamolo che apposto ok ok portiamolo qui ok ok portiamolo qui portiamolo qui vediamo qui è molto bella di questo gioco è che vuoi ehm vuoi ehm vuoi infezare 10.000 modi perché vedi vedi hai un po' sentita qui è e vedi la base c'è un po' la si poi c'è la poi la Ragazzi, sto giocando questo gioco con Xbox One, è buona la riflessione, fatemi dire se l'interno che serve sulla riflessione, questo soldato è buono, ok ragazzi, basta con le piangere e continuiamo, dovrebbero dormire adesso. 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da, da, da. Ti vutta a l'ischungio spara a terra? Oh, sono di due tutte le stesse, ovviamente. Non mi sono andata in fronte, non mi sono andata in fronte. Non so, non so, non so. Non so, per le stagioni, avremo più potenti più dell'obiettivo. Non so, non so, non so. Prima, usate i binoculars per trovare il equipamento di comunicazione nel facility. Però ha l'armatura, quindi... Ah, sì, l'armatura è il casco. quindi dovremmo prenderlo di sorpresa da.. da dietro prendo una banca di conto anzi di 6 più 6 fanno uccidere uccidere vanno in alto dove sono i canzoni di mio nanno abbocati dove sono i tuoi amici? ah vabbè si rispettiamo mi piaccio ragazzi però non posso permettermi di farmi scoprire ok continuiamo adesso è soltanto questo è un gatto è morto eh eh lo scusate ok ragazzi non ho scusate solo eh 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 fare esplorvi le 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 si si per il 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 un il un un il Autore dei sovrapposti 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 un po' non è giusto non sono un po' di arzano il gioco con la terza è andata non è tutta la terza Ok, il nostro altro ambito è distruire tutte le antenne che mi riferisco a qui, quindi dovremmo fare un bel pozzo, e ci serve anche un altro. E' solo così ragazzi, mettiamo tutti i c4 in tutte le antenne, possiamo scontrare tutto corronamente. Quanti Thyretta della pietra è che ci vede uno st odio per noi. Cos'è piùPlusa, potete vedere tutto quello che vuoi. io faccio splodger un po' di questa perché non ci sono noi perché voglio che non splodger un po' di roba un po' di roba un po' di roba scusate ragazzi per il mio minuto di silenzio ho dovuto fermare e ho dovuto ricominciare la riposizione perché mi hanno chiamato scusate non succedete ma comunque ragazzi per il video che vi sia piaciuto lasciate un mi piace, un pollice su, iscrivetevi al file se non l'avete fatto, condividete il video e alla prossima tra giaccio vi saluta, ciao! ciao! ciao!